Promo Sarai 2018 da Fishing Evolution, una promozione che dura tutto il mese, anzi anche qualche giorno in più tanto è vero che partiremo da sabato 28 luglio per tutto il mese del costo includendo anche l'ultimo weekend di luglio praticamente partiamo subito promozione valida per i clienti del sito e per i clienti del negozio effettua un minimo ordine di 79 euro sul nostro sito fishingevolution.com inserisci il codice magico, il codice sconto 5FE99 nell'apposita finestrella del carrello dove c'è scritto se hai un codice inseriscilo qui bene scrivici 5FE99 ed avrai spese di spedizione dimezzate a metà praticamente a 5 euro in più riceverai nel momento in cui verrà evaso l'ordine un buono acquisto pari al 10% dell'importo speso da riutilizzare dal 1 settembre al 30 settembre 2018 quindi subito dopo appena finisce la promozione potete subito riutilizzare e rispendere questo buon acquisto per i clienti del negozio invece eliminiamo lo step 1 dato che i nostri amici che vengono qui in sede non hanno bisogno di spedizioni lascieremo valido lo step numero 2 per ogni acquisto pari o superiori a 79 euro riceveranno immediatamente immediatamente vuol dire nel momento in cui stanno pagando riceveranno dalle nostre mani un buon acquisto cartaceo pari sempre al 10% del valore speso da riutilizzare qui presso la nostra sede sempre dal 1 settembre al 30 settembre 2018 tutte le informazioni trovate qui sotto in descrizione se state guardando questo video da youtube qui sopra se lo state guardando da facebook e comunque nella sezione news del sito qui c'è una sezione la sezione news è quella dove pubblicheremo tutte le nostre iniziative tutte le nostre offerte e promozioni compresi i regolamenti promo summer 2018 da Fishing Evolution ciao ciao